Il giorno 20 gennaio le classi terze, quarte e quinte dell'Istituto Vico di Vivo di Agropoli saranno impegnate in un incontro online organizzato dall'Asla di Salerno, distretto di Agropoli, sul tema della sicurezza e prevenzione agli incidenti stradali. L'incontro, insieme per la sicurezza, sarà tenuto dalla dottoressa Rosa Maria Zampetti, dirigente responsabile UOSD per la promozione della salute e dal dottor Fabrizio Budetta, medico del CERD, dalla dottoressa Rosaria Cammarota, sociologa. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte sotto i 40 anni, il 21% di morti e il 19,2% feriti sono giovani tra i 15 e i 29 anni. Essi sono in gran parte causati dal comportamento dell'uomo e sono anche ascrivibili ad alterazioni dello stato psicofisico del conducente, ebrezza alcolica o uso di stupefacenti. Questi dati evidenziano una carenza di formazione tra i giovani sulle conseguenze del rapporto tra alcol, sostanze stupefacenti e guida, combinazione di inesperienza alla guida ed abuso di alcol. Per tale motivo l'obiettivo dell'incontro, che rientra anche nei traguardi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, è quello di diffondere nei giovani la cultura della sicurezza stradale, ovvero promuovere comportamenti corretti, sicuri e responsabili sulle strade, sviluppare negli adolescenti il senso di responsabilità, rispetto per sé e per gli altri, rispetto per l'ambiente circostante, sensibilizzare i ragazzi verso una modifica del proprio stile di vita, promuovendo l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi e incentivando l'attività motoria di ciascuno, informare sulle principali cause di incidenti stradali.